cari amici di fano tv la più cordiale buonasera bentrovati a tutti in questo approfondimento in studio parleremo della fano visit card la carta dei servizi riservata ai turisti e non solo che offre numerose agevolazioni e colloca fano tra le località turistiche più strutturate diamo il benvenuto allora al nostro ospite in studio l'assessore etienne lucarelli buonasera 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 a voi allora finalmente parte e quindi è stata ufficialmente lanciata come si dice questa card ma il progetto non è nuovo perché il frutto di quattro anni di intenso lavoro sì così di lavoro fatto insieme alle associazioni di categoria insieme al tavolo economico a seguito del piano strategico che abbiamo realizzato quindi ecco ci sembrava giusto anche raccontarlo ai cittadini perché è vero che è un servizio per i turisti ma un servizio importante anche ai cittadini è bene che tutti sappiano insomma un percorso importante che stiamo facendo arriva da lontano perché abbiamo chiaramente definito che la città aveva bisogno di tutta una serie di servizi per farsi conoscere meglio perché sappiamo che abbiamo una bellissima storia da raccontare ma a volte si faceva fatica portare le persone a vedere i luoghi i luoghi belli della nostra storia sappiamo che abbiamo una magnifica enogastronomia ma c'è fatica a raccontare quali sono anche qui magari i luoghi della ristorazione dove veramente le persone possono trovare magari il nostro pesce fresco oppure i prodotti della campagna che vengono proprio dalla nostra terra parliamo ad esempio di marineria che è un altro carattere molto importante e in questo contesto abbiamo lavorato per creare dei luoghi che possono raccontare i posti della tradizione come lo sono il google come lo sono la darsena giurgin la darsena pipeta come sono il mercato ittico o altri zoni come ad esempio la splendida darsena borghese appena riqualificata ecco che allora abbiamo creato una serie di progetti importanti in gergo turistico si chiamano dei cluster quindi dei progetti oggi se una persona arriva nel nostro punto informativo ha proprio degli opuscoli che gli raccontano come poter fare a vivere fanno marinara vivere fanno gastronomica a vivere la fanno città dei bambini e delle bambine con tutta una serie di servizi ad esempio mi viene in mente comune di fanno è proprietario di un luogo fantastico che il museo del balì che è proprio adatto per i bambini ci sono luoghi come casa archilei piuttosto che come il nuovo bioparco che è nato vita da pacos e che veramente possono far divertire i bambini e giocare e farli giocare anche insieme alla natura il nostro paesaggio ecco queste cose vanno raccontate fatte vivere e le abbiamo messe insieme in questi opuscoli che raccontano le nostre caratteristiche un altro su tutto presentato da poco fan outdoor nessuno sa che magari ci sono dei percorsi che fanno i nostri gruppi legati al mondo delle bici sono dei percorsi ciclabili che magari ti portano a visitare i paesi nell'entroterra siamo l'unico territorio le marche sono l'unico territorio le cui colline arrivano direttamente sul mare così degradanti un paesaggio fantastico che permettono di camminare a piedi di andare in bici ecco tutto questo andava messo insieme perché altrimenti si faceva faticare a contarlo e l'abbiamo messo insieme in una serie di progetti ecco perché la fanno visit card perché oggi la fanno visit card viene data direttamente all'utente al turista al visitatore che arriva nella nostra città e con la fanno visit card ci sono una serie di informazioni e promozioni proprio per vivere a pieno questi servizi che abbiamo creato quindi arriva la fine di un percorso devo dire che oggi insomma il servizio è attivo da circa 20 giorni abbiamo già distribuito circa 15.000 card per dire l'entità delle persone che non usufruiscono sono attivabili da chi prende la card e devo dire che già tantissime di queste sono state attivate allora assessore chi tecnicamente volesse questa card cosa deve fare perché è una carta fisica e poi anche digitale adesso vi spieghiamo tutto quanto perché anche un cittadino fanese dice io voglio la visit la fanno visit card dove vado come faccio a richiederla e come faccio ad attivarla allora le cose sono due per un turista un visitatore che arriva nella nostra città è semplice perché quando arriva in hotel è direttamente la struttura ricettiva che gli consegna visto che il turista paga la tassa di soggiorno gli consegna direttamente la card in mano e il turista poi può scegliere se attivarla oppure tenersela anche come ricordo visto che c'è anche una bellissima immagine della nostra città per un cittadino semplicemente può entrare nel nostro sito ufficiale che racconta tutti gli eventi e tutte le attività che noi facciamo che www.visitfano.info e in questo sito trova proprio una sezione fanno visit card è molto semplice basta entrare sulla card ci sarà un'opzione che permette di acquistarla e le card sono due da sette giorni o da 14 giorni da sette giorni la card costa 10 euro da 14 da 14 giorni la card costa 20 euro questo servizio di acquisto sarà attivo tra una settimana stanno ancora definendo alcune cose quindi per il pagamento tra una settimana sarà attivo quindi ci sarà la possibilità sia per i cittadini di acquistarlo sia per i turisti ovviamente che arrivano nella nostra città di averla in quel caso gratuitamente perché gratuitamente perché turista in arrivo paga la tassa di soggiorno e pagando la tassa di soggiorno è giusto che abbia diritto a una serie di servizi che la città gli porta insomma e questa card è davvero un passepartout a partire dai trasporti perché un turista che viene nella nostra città ha diritto di muoversi di spostarsi anche con delle agevolazioni in tal senso beh la nostra è una destinazione turistica molto lunga 17 chilometri di costa che va da fosso sei ore fino a ponte sasso con tante anche destinazioni intermedie come lo sono torrette come lo sono metauriglia come lo sono gimarre eccetera eccetera ecco il tema è è chiaro che per conoscerci per conoscere la nostra cultura per conoscere le nostre bellezze che è il segreto per far tornare le persone c'è bisogno di arrivare in centro storico di conoscere la nostra città ecco perché abbiamo pensato ad una collaborazione con adribus anzi ringrazio massimo benedetti presentando la card in tutti i trasporti urbani e in tutti i trasporti extra urbani che vanno da appunto ponte sasso fano oppure fosso sei ore fano il viaggio è gratuito quindi non c'è bisogno di fare il biglietto anzi a volte sapete i turisti quando arrivano fanno fatica soltanto a capire come dove possono trovare il biglietto come dove possono trovare gli orari dell'autobus ecco avendo la card sul retro ci sono scritto tutto ti rimanda del sito nel sito ci sono gli orari con la card il trasporto è gratuito quindi è molto immediato conoscono come arrivare nella nostra città e possono arrivarci in modo molto semplice e tra l'altro i percorsi si tratta di percorsi sia urbani sia extra urbani questo insomma vogliamo specificarlo una volta intrapreso il percorso abbiamo tante tante non solo iniziative ma tanti luoghi insomma da conoscere tanti luoghi che richiamano la cultura fanese a partire insomma dal museo sì perché nei progetti ad esempio presenteremo a breve un progetto che si chiama fano città di vitruvio che raccontano proprio i luoghi della nostra cultura itinerari romani itinerari maratestiani rinascimentari barocchi tutto quello che può raccontare la nostra città ecco cosa si può fare con la card ad esempio l'ingresso al museo civico attuale a pagamento con la card si entra gratuitamente ad esempio spesso una persona non sa come trovare delle visite guidate bene ci sono due momenti il giovedì sera e il venerdì sera il giovedì alle 21 si può andare a visitare la nostra storia in centro storico il venerdì invece la marineria e quindi noi facciamo conoscere il progetto fanno città di vitruvio con una guida e fanno marinara con un'altra guida e quindi ci sarà la possibilità di prenotare delle visite gratuite alla città quindi già sono due momenti dove ingressi nei musei e possibilità di avere proprio una guida professionista che ti accompagna per la città con la visit card sono gratuiti ed immediati abbiamo fatto un passo in più un luogo fantastico che va raccontato che lo raccontiamo sempre ma che a volte non è stato sempre aperto nella nostra città se non grazie alle attività che Archeoclub ci fa in questo periodo che sono gli scavi di Sant'Agostino quelli che veramente danno le suggestioni per raccontare la nostra identità ecco gli scavi di Sant'Agostino dalla prossima settimana venerdì sabato e domenica saranno aperti con delle visite che praticamente interne che partono ogni mezz'ora ecco quindi le persone potranno entrare tutto questo grazie a questo servizio che abbiamo attivato e quindi alla card che permette di entrare all'interno di questi luoghi. È stato seglato un accordo anche con Confcommercio che dà la possibilità poi di ammirare anche le altre bellezze dei comuni dell'ambito. Beh sì noi abbiamo attivato un progetto qui da insomma importante da tempo poi serve anche tempo per poterlo sviluppare meglio e insomma a breve faremo anche dei passi in avanti insomma importanti che è quello delle vallate del metodo del Cesano perché perché un turista in arrivo nelle nostre spiagge e considerando che soprattutto le strutture ricettive stanno in gran parte nel lungomare poi ce ne sono di bellissime anche nell'entroterra un turista ha bisogno di visitare il nostro entroterra di vedere di conoscerci completamente di conoscere la nostra provincia e quindi non può che conoscere anche tutti i nostri borghi e tutte le nostre bellezze qui abbiamo siglato appunto questa convenzione con gli itinerari della bellezza con Confcommercio che ci permetterà di entrare con un prezzo ridotto in realtà il prezzo al 50 per cento in tutti i principali musei del nostro entroterra quindi bronzi dorati di Pergola in musei di Fossombrone insomma nei musei di Mondavio a Cagli eccetera eccetera quindi chi viene nella nostra città e alla CAR non solo può visitare la nostra città ma può permettersi di andare nell'entroterra e di visitare anche le bellezze dell'entroterra e qui parliamo soltanto di cultura poi ci sono tutta un'altra serie di servizi che guardano altre attività. Assolutamente sì perché Fano è una città ricca di eventi e di manifestazioni e con la visit card c'è un accesso più rapido e agevolato anche in tal senso. Praticamente con i principali eventi stiamo facendo gli accordi per cui tutti quelli che vogliono entrare hanno il prezzo ridotto dove c'è il pagamento. Chi ha la card entra e può insomma andare al jazz con il prezzo ridotto. Tra qualche giorno il 10 di agosto ci sarà in Girperfano una manifestazione che ti porta proprio a degustare della buonissima gastronomia del territorio a visitare la città ecco al posto delle 23 euro del costo del biglietto con la card il prezzo sarà 15 euro quindi un prezzo molto agevolato. Insomma vogliamo far sì che il turista si senta coccolato da questo semplice cartoncino che porta in mano e possa veramente visitare la città e tornarsene raccontando che la nostra è una bellissima città, che il nostro è un bellissimo territorio e che con questo oggettino magico che non è altro che un aggregatore di tutti i servizi che la città sta mettendo insomma all'opera possa visitarlo meglio. Poi non è finita qua, ad esempio tema fanno città dei bambini e delle bambine stiamo ampliando una serie di servizi perché ovviamente poi il servizio è un work in progress quindi vogliamo attivare sempre più servizi per far visitare sempre meglio la nostra città. Oggi per tutti i bambini abbiamo preparato dei gadget con i quali possono giocare sia in riva al mare sia in città ecco tutte le famiglie con bambini che arrivano possono arrivare nel nostro punto Iatte presentando la card hanno questi gadget gratuiti, quindi ci sono dei palloni, ci sono dei frisbee, ci sono tante cose con le quali i bambini possono giocare che ovviamente riportano il marchietto di Fano. Abbiamo fatto, stiamo realizzando una serie di prodotti di merchandising con i brand della città di Fano come magliette, cappellini e tante altre cose. Ecco il turista che lo volesse può acquistare questo materiale ad un prezzo scontato del 20%. Ad esempio ricordo la nuova guida fatta con la casa editrice Bonechi di Firenze che è molto utilizzata e anche molto venduta, ecco anche questa ha un prezzo particolare quindi i turisti possono andare nello yacht e portare, acquistare la guida e poi tutta un'altra serie di agevolazioni che pian piano stiamo attivando. Ecco il concetto è un po' quello che ho espresso prima, vogliamo coccolare il turista che arriva, vogliamo fargli percepire che c'è un'attenzione. Il visitatore quando arriva, arriva nella struttura ricettiva, è per questo che immediatamente gli viene data la possibilità, gli viene consegnata da parte delle strutture ricettive questa card, sopra c'è un piccolo codice, il famoso QR code, esatto che è un codicino di attivazione è semplice, il turista può scegliere se attivare la card oppure non attivarla. Se attiva la card, tra l'altro scaricando la nostra applicazione, consiglio a tutti di farlo, è l'applicazione VisitFano che racconta quelli che sono i nostri eventi, quelle che sono le cose da visitare, ti fa scoprire la città con un occhio diverso, ti mette in evidenza quelli che sono i luoghi della ristorazione, gli stabilimenti balneari, quindi è una vetrina vera sulla nostra città, in quella stessa applicazione c'è una sezione chiamata Fano Visit Card, con scritto inserisci, attiva la card, basta inserire il codice di attivazione, da quel momento la card attiva, funziona un po' come funzionava anche con il Green Pass, poi i controllori hanno uno strumento per controllare che la card è attiva e quindi fanno entrare sia turisti, visitatori, che cittadini all'interno dei luoghi che abbiamo descritto. Assessore, ma un turista che è stato in vacanza da noi quest'anno a Fano, il prossimo anno vuole ritornare, deve richiedere la card ex novo oppure è rinnovabile quella che è stata consegnata? No, la richiede ex novo, di fatto gli verrà consegnata ex novo, perché la card viene consegnata all'arrivo del turista nella nostra città appena arriva, ogni volta che arriva, perché la card appunto rimane valida una volta attivata per sette giorni e poi si disattiva automaticamente e non può essere più utilizzata. Perfetto, quindi ci sembra davvero un'opportunità importante da sfruttare, sia per i turisti ma anche per i fanesi che hanno voglia di scoprire e conoscere le bellezze del territorio. Insomma, andate nel sito, l'ho detto ancora oggi, vedete che non è attivo, ma tra una settimana sarà attivo il pagamento, quindi se uno lo vuole sperimentare può tranquillamente utilizzarle, magari con quella entrare nel museo gratuitamente e magari con quello usufruire prenotando delle visite guidate che ci sono e insomma altre attività molto interessanti. Grazie allora Assessore per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi dell'attenzione, grazie a Roberto Magrelli in regia. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.